8.1 che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del regolamento prevedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive ai sensi dell'articolo 85,8 dell'ultimo periodo fermarestando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine i gruppi Forza Italia, Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà e il gruppo misto per le componenti politiche, conservatori e riformisti, alternativa libera possibile e minoranze linguistiche sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire invito i relatori e i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalati per la votazione. Prego, Onorevole Braga. Grazie, Presidente. Emendamento 1.1 Ciraci, parere favorevole. 1.2 Ciraci, contrario. 1.3 Segoni, contrario. 1.4 De Rosa, contrario. 1.9 Matarrese, contrario. 1.11 Matarrese, contrario. 1.15 Russo, contrario. 1.17 Mariani, favorevole. 1.13 De Rosa, il primo a pagina 6. Scusi, contrario. 1.17 Mariani, favorevole. 1.18 Sarro, contrario. 1.19 Matarrese, contrario. 1.9 Sciullian, contrario. 1.21 Ciraci, contrario. Ci sarebbe 1.20 Sciullian. 20 Sciullian, contrario. 1.21 Ciraci, contrario. 1.22 Sarro, contrario. Andiamo all'1.29 Ciraci a pagina 11. Contrario, 1.30 De Rosa, favorevole con riformulazione. Che legge. Al comma 4, dopo le parole rigenerazione urbana, aggiungere le seguenti. L'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati. Emendamento 1.31 Segoni, parzialmente favorevole, accogliendo la parte che fa riferimento all'articolo 4, al comma 8, dopo le parole di arrecare danno al paesaggio, aggiungere le seguenti, all'equilibrio del sistema idrogeomorfologico. E all'articolo 5,1, alla lettera B, dopo le parole elevati i livelli di qualità, aggiungere le seguenti, sicurezza idrogeomorfologica e sismica. Bene, mi scusi, quindi alla lettera B e alla lettera D il parere è contrario, così come è contrario nella parte precedente, giusto? Emendamento 1.32 russo contrario, 1.33 russo contrario, 1.34 russo favorevole. Aspetti un attimo, scusi, eh. Mi scusi, eh, perché c'è una... ci può ridire sull'1.31 Segoni? Sì. Perché a noi abbiamo capito due cose diverse. Allora, parzialmente favorevole accogliendo la parte riferita all'articolo 4, al comma 8, così come è formulato, quindi dopo le parole fino al sistema idrogeomorfologico. E subito dopo, all'articolo 5,1, la parte riferita alla lettera B, così come è formulata. Tutto il resto invito a ritiro. Ok, va bene, d'accordo, grazie. Qui e poi dopo, 1.32 russo contrario, giusto? 1.33 russo contrario, 1.34 russo favorevole. 1.35 ciracì contrario, 1.36 matarese contrario. Grazie, sentiamo ora gli altri relatori. Poi abbiamo il relatore del... De Rosa. Grazie, presidente. Vuole che glieli leggo io? Dovrei farcela. 1.1, favorevole. 1.2 ciracì, favorevole. 1.3 Segoni, favorevole. 1.4 De Rosa, favorevole. Poi, se non ho guardato male, 1.9 Matarrese, contrario. 1.11 Matarrese, contrario. 1.13 De Rosa, favorevole. 1.15 russo, contrario. 1.17 Mariani, contrario. 1.18 Sarro, contrario. Usava per ilumination, material. 3.16 UTRA, 2.17